Hi dummies! Lavorare in tanti? For dummies! Regola numero 1 Fai copia con il postupido del gruppo, sembrerai più intelligente. You are correct! Regola numero 2 It's all ready! Anche se non ascolti musica, tieni le cuffie nelle orecchie. Potrai far finta di non sentire. Regola numero 3 Se ti accorgi di aver detto una cazzata, rimedia con un intramontabile stavo semplicemente facendo un brainstorming. You are correct! Regola numero 4 It's time to wake up! Impara le scorciatoie di tastiera per chiudere al volo Messenger, Skype e solitario. Zero! Regola numero 5 Attento! Chi di soprannome ferisce, di soprannome perisce. You are correct! Capito dummies? Essere suddoli puoi sembrare migliore. It's time to wake up! Gli auricolari salvano la vita. Coprire gli scivoloni con scuse creative. Veloce con il logout. Non affibbiarono migliori i colleghi. You are correct! Bye Bambi!